oro analisi mensile luglio 2020 allora niente l'oro che continua la sua corsa verso l'alto e praticamente come potete vedere abbiamo i massimi assoluti del 2011 a 1909 e il prezzo adesso quota 1826 quindi intanto ci segniamo il massimo qui proprio su questo livello anzi un po' più su e analizziamo cerchiamo di capire come si sta comportando il prezzo allora intanto appunto avevamo visto tutta questa fascia di prezzo qui che era stata praticamente comprata vedete qui da questo swing come poi al ritorno sulla parte superiore il prezzo abbia ripreso qui non è neanche arrivato e verso sulla fascia identificata e poi il prezzo è andato a rialzo ha strappato a rialzo in maniera continuativa dal 2018 ha sempre praticamente comprato massimi vedete come ci sono siano presenti candele di espansioni importanti però ad esempio invece negli ultimi mesi negli ultimi mesi possiamo assistere invece a parecchia indecisione cioè negli ultimi mesi quello che possiamo notare a differenza di prima che i massimi venivano comprati e le candele chiudevano sui massimi vedete qua vedete qua ad esempio negli ultimi mesi abbiamo candele con pochissimo body e tanta spike da una parte dall'altra abbiamo questa candela questa candela che praticamente è rossa che arriva fino a 1680 poi torna indietro questa candela che è verde arriva fino a 1790 poi torna indietro si denota parecchia indecisione cioè chi opera mensilmente ha orizzonti temporali mensili cioè o una persona è long da più indietro oppure chi opera mensilmente dimostra spesso di avere orizzonti temporali mensili e non oltre adesso diciamo che giugno possiamo dire che non direi propriamente che abbia comprato i massimi di maggio tanto meno quelli di aprile e luglio che si sta delineando come una candela verde sembrerebbe in maniera molto timida comprare i massimi di giugno le aree importanti dove il prezzo potrebbe incontrare a questo punto resistenza sono sicuramente quest'area qua da cui era partito il ribasso ok questa qui è un'area dove potrebbe incontrare resistenza o meglio o meglio in realtà in realtà la candela di giugno ci ha chiuso timidamente sopra a differenza vedete quella di aprile che è stata respinta proprio da quell'area vedete qui abbiamo una candela che viene respinta qua addirittura viene respinta e poi si genera un 4 5 mesi di short il prezzo risale qua si ferma e da qui viene respinta addirittura si scende poi per anni dal 2013 al 2015 quest'area ha visto respingere il prezzo per diversi anni vedete come quest'area anzi la segniamo in maniera un po più importante per identificarla meglio e la metterei anche in rosso vedete quest'area come precedentemente ha fatto proprio da tetto qui di nuovo recentemente fa la stessa cosa funziona da tetto nel mese di aprile il prezzo arriva fino a 1780 1800 e scende la candela di maggio di scusate di giugno sembra comprare timidamente questi massimi la candela di luglio si spinge oltre bisogna molto interessante vedere se quest'area a fine mese sarà comprata sarà comprata o no cosa vuol dire vuol dire vuol dire che se la candela di luglio chiudesse effettivamente sopra i massimi di giugno e sopra quest'area avremmo sicuramente un verosimilmente un positivo tentativo di attacco a questi massimi assoluti perché come potete vedere tra questo livello che teneva diciamo da diversi anni che ha tenuto qua ad aprile e il massimo assoluto non ci sono più ostacoli cioè non ci sono altri livelli quindi a livello mensile si può pensare che se la candela attuale riesca a chiudere sopra o chiudere anche semplicemente come adesso ci potrebbe essere prossimamente un attacco ai massimi diversamente se la candela chiudesse sotto i massimi di luglio di giugno addirittura sotto questa linea rossa sarebbe più difficile pensare che prossimamente ci possa essere un attacco ai massimi o magari non ci possa essere prima di un più significativo magari storno fino qua sotto e poi di nuovo un attacco a quei livelli lì quindi è importante capire come finirà il mese spostandoci magari un attimino sul daily vediamo un secondino di capire come si comporta il prezzo ecco vedete che appunto dal punto di vista giornaliero abbiamo sempre quest'area che abbiamo visto diverse volte fungere da tappo e adesso venire rotta certo come potete vedere anche sul giornaliero le candele non generano delle spinte al rialzo vedete questo livello qui ad esempio bisognerebbe vedere se riuscisse ad essere comprato no vedete che dopo questi queste giornate di diciamo di equilibrio dopo queste giornate di equilibrio la candela del 20 sembra spingersi ma non chiude mai sopra i massimi precedenti di queste candele e viceversa è uguale questa qui del 21 di oggi non sembra comprare in maniera importante questi massimi cosa che ci si aspetterebbe nel nel per vedere poi uno slancio verso verso l'attacco ai massimi quindi attendiamo di capire i prossimi sviluppi sicuramente sicuramente quest'area qui diventa un'area importante nel voler provare a riposizionarsi short questa mi viene in mente la prima area la seconda area potrebbe essere su un ritracciamento quest'area che dopo questa zona di equilibrio ha dato ha dato la spinta vedete questa abbiamo questa sorta di area di equilibrio di questo equilibrio del prezzo mensile e poi abbiamo praticamente con la candela di gennaio 2020 una spinta verso l'alto poi qua abbiamo un ritorno e poi di nuovo riassorbimento e via queste aree qui intorno a 1450 1500 potrebbero essere che tra l'altro vedete come questa stessa linea verde qua aveva funzionato da pavimento prima che poi il prezzo rompesse al ribasso però vedete qua come quest'area segnata qui per un motivo corrisponde poi in precedenza ad un altro livello comunque molto significativo quindi sicuramente potrebbe essere interessante provare a rientrare in ottica long su questi livelli quindi non siamo vicinissimi io non sto dicendo che il prezzo possa tornarli domani ma questa è sicuramente un'area che identificherei come un'area importante area successivamente sotto che proverei a indicare è sicuramente tutta quest'area qua ok quindi quest'area che funziona da tetto in questi anni potrebbe funzionare da pavimento quindi questa di nuovo come area successiva niente aspettiamo la fine di luglio e alla prossima analisi cercheremo di capire come si è evoluta la dinamica del nostro prezzo